contro i brufoli tutti i brufoli acqua e topexan funziona facile facile tutte le mattine ecco un modo diverso di combattere i brufoli lavarsi la faccia tutte le mattine con topexan per rimuovere sporco grasso e batteri tutte le mattine topexan lavaggio antisettico un modo efficace di combattere i brufoli leggere attentamente le avvertenze